Scusi, la deteczione continua che funziona anni, io ti ho eseguitato con la signora Hassel, tuoi Hassel, mi ho eseguito, e non è stato un atto secondo il corico penale, questo è un atto che non è stato un legato, un po' persone non è stato un legato, come non è stato un legato, come non è stato un legato? Per il corico penale, non è stato un legato, non è stato un legato, ma sopra, simplemente, a pone, riba, noz muralla e mata di cannabis, come un messaggio, come è una medicina, come è una buona alimentazione, per il popolo educato, e il rapporto di polizia ha menzionato tre cose, una cosa che ha cominciato, suppostamente, la distruzione di proprietà di un altro, lo che non è stato un caso, non è vero, ma sopra, si tratta di oficina di un partito RIT, non è la distruzione di proprietà di un altro, quello che è insultante, e se non è vero, ma sopra il messaggio, come è un remedi di terra, è una medicina, e guarda la quantità di altre persone che si tratta di un flanello, come è messo un messaggio, riba, programma di CNN, National Geography, guarda, e programma, tocante e mata anche, che non è un po' insultante, e si tratta di tre acusazioni, e si tratta di una cosa che non è buona per la comunità, Però chi ha deciso ora è quello che è buono per la comunità. E non c'è base, e pensi che non c'è, anche con il corpo policiale, c'è lo che vuole chiamare sequestro. E non c'è base a una persona per detenere. E pensi che non c'è la libertà di una persona per qualcosa di sagrare. E qui non è in grado a prendere l'occasione. E noi, in realtà, guardando che la Comissione di Mombolontà haci, per noi prendere un altro passo legale. C'è l'occasione di Mombolontà, che non c'è la possibilità, per il caso di qui, per sopra, non possiamo accettare che può affectare la libertà di un cittadino. E' un caso di maltrato di un cittadino, anche di un fracassi, che non c'è la possibilità di un cittadino. E' un caso di una strategia per criminalizzare la red. Per criminalizzare la candidata. E così, per debilire la red per la elezione.